Ciao a tutti e benvenuti alla sessione numero 36 del 10 marzo 1981. Andiamo ora a vedere cosa ci racconta oggi Ra. Io sono Ra, vi do il benvenuto nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore. Stiamo comunicando ora. Ora, intervistatore, nelle precedenti comunicazioni hai parlato di totalità del complesso mente-corpo-spirito. Puoi darci una definizione di questo termine? Io sono Ra, vi ho un piano in cui il tempo non ha potestà. In questa dimensione mente-corpo-spirito, nella danza eterna del presente, possono essere visti nella totalità e prima che il complesso mente-corpo-spirito, che poi diventa parte del complesso di memoria collettiva, venga di buon grado assorbito nel tutto dell'uno creatore, l'entità conosce se stessa nella propria totalità. Questo complesso di totalità mente-corpo-spirito funziona come, diciamo, una risorsa per ciò che potreste chiamare il sé superiore. Il sé superiore, a sua volta, è una risorsa per esaminare la distillazione dell'esperienza di terza densità e programmare le successive esperienze. Questo vale anche per le densità quarta, quinta e sesta. Il complesso di totalità mente-corpo-spirito diventa cosciente nel corso della settima densità. Intervistatore Io sono Ra, non è corretto. Il sé superiore, come voi lo chiamate, cioè quel sé che esiste con piena comprensione dell'accumulazione di esperienza dell'entità, aiuta l'entità a raggiungere la guarigione delle esperienze che non sono state adeguatamente insegnate e assistite, come tu hai suggerito nella programmazione delle successive esperienze di vita, come le puoi chiamare. Il complesso di totalità mente-corpo-spirito è quello a cui potrebbe rivolgersi l'aspetto del sé superiore, proprio come il complesso mente-corpo-spirito si rivolge al sé superiore. Nel primo caso si ha una situazione strutturata all'interno dello spazio-tempo continuum, in cui il sé superiore ha a disposizione la totalità delle esperienze che sono state accumulate da un'entità e una solida comprensione delle lezioni che devono essere imparate in questa densità. Il complesso di totalità mente-corpo-spirito è instabile come la sabbia ed è per un certo verso una raccolta di sviluppi paralleli della stessa entità. Questa informazione è disponibile all'aspetto del sé superiore. Questo aspetto può quindi utilizzare questi vortici proiettati di probabilità-possibilità allo scopo di meglio aiutare ciò che tu chiami la programmazione della vita futura. Io mi fermerei un attimo qui perché questo che ci dice a proposito del nostro sé superiore è molto interessante quello che ci spiegherà che appunto noi il nostro sé superiore, cioè la nostra vera essenza, è quello che decide che lezioni dobbiamo imparare, che lezioni, che catalizzatore introdurre per aiutare a sviluppare meglio e per poter andare avanti sul cammino, naturalmente sul cammino scelto e quindi per progredire, per aiutarci ad arrivare più velocemente o aiutare comunque ad arrivare alla fonte, a passare tutte le nostre lezioni che dobbiamo imparare. Intervistatore, nel materiale di Seth, vi è un'affermazione Ogni entità sulla Terra è una parte o un aspetto di un sé superiore o di un oversoul, superanima, che ha numerosi aspetti o parti in molte dimensioni che imparano le lezioni, permettendo al sé superiore di progredire in modo equilibrato. Da ciò devo presumere che vi sono molte esperienze governate da un solo sé superiore simili a quella che noi sperimentiamo in terza densità. Io sono Ra. La correttezza di questa affermazione è variabile. Più l'entità è equilibrata, meno vortici di possibilità e probabilità può aver bisogno di esplorare in esperienze parallele. Intervistatore, dunque, il sé superiore o l'oversoul, superanima, può dividersi in numerose unità, se è necessaria l'esperienza per ciò che noi chiameremo esperienza simultanea di diversi tipi di catalizzatori per la supervisione di queste esperienze? Io sono Ra. E una domanda a cui non possiamo rispondere, corretto o non corretto, a causa della confusione di ciò che voi chiamate tempo. La vera simultaneità è disponibile solo quando tutte le cose vengono considerate come una. Ciò offusca il concetto di cui parli. Il concetto di varie parti dell'essere che vive le esperienze di diverse nature simultaneamente non è accurato poiché nella vostra comprensione significherebbe che ciò sta avvenendo con reale simultaneità. Non è così. In questo caso ciò avviene da un universo a un universo ed esistenze parallele possono essere programmate dal sé superiore. Date le informazioni disponibili dal complesso di totalità di mente, corpo, spirito, riferito ai vortici di probabilità, possibilità, a qualunque punto. Intervistatore Puoi farmi un esempio di come questa programmazione del sé superiore comporterebbe l'educazione attraverso esperienze parallele? Io sono Ra. Forse l'esempio più semplice di questa apparente simultaneità di esistenza di due esseri, che in realtà sono uno solo al medesimo tempo-spazio, è questo. L'oversoul, cioè superanima, come voi lo chiamate, o sé superiore, sembra esistere simultaneamente con il complesso mente-corpo-spirito a cui presta aiuto. Ciò non è davvero simultaneo, poiché il sé superiore si sta muovendo verso il complesso mente-corpo-spirito da una posizione in sviluppo dell'entità che può essere considerata nel futuro di questa entità. Intervistatore Quindi il sé superiore opera dal futuro per come noi concepiamo le cose. In altre parole, il mio sé superiore opera da ciò che io considero il mio futuro. E' corretto? Io sono Ra. Dal punto di vista del vostro spazio-tempo, è corretto. Wow, questo qua, questa risposta è molto molto interessante, perché effettivamente ci apre di più la mente per capire chi è il nostro sé superiore e che cosa è, qual è il suo ruolo. Intervistatore In quel caso, il mio sé superiore ha un grande vantaggio nel sapere ciò che è necessario, poiché è a conoscenza da ciò che capisco di ciò che accadrà. E' corretto? Io sono Ra. Non è corretto, perché in questo caso si verificherebbe una violazione del libero arbitrio. L'aspetto del sé superiore è consapevole delle lezioni apprese attraverso la sesta densità. La velocità del progresso è ben compresa. Le scelte che devono essere prese per raggiungere il sé superiore provengono dallo stesso complesso mente-corpo-spirito. Quindi il sé superiore è come la mappa di cui si conosce la destinazione, le strade sono note, disegnate dall'infinito intelligente che lavora attraverso l'energia intelligente, tuttavia l'aspetto del sé superiore può solo programmare le lezioni e predisporre, se lo desidera, determinate limitazioni. Il resto è una libera scelta dell'entità, vi è il perfetto equilibrio tra il conosciuto e lo sconosciuto. Intervistatore, mi dispiace di aver così tanti problemi con questi concetti, ma sono certo che siano molto difficili da tradurre nella nostra comprensione e linguaggio. Alcune delle mie domande possono sembrare piuttosto ridicole, ma questo sé superiore ha qualche tipo di veicolo, come il nostro veicolo fisico, ha un complesso corporeo? Io sono Ra, è corretto. Il sé superiore è in sesta densità avanzata, vicino alla settima. Quando è completamente entrato in settima densità, il complesso mente-corpo-spirito diventa un complesso di totalità mente-corpo-spirito e comincia a raccogliere la massa spirituale ed ad avvicinarsi nell'ottava densità. A quel punto smette di guardarsi indietro. Beh, questo è molto interessante perché praticamente il nostro sé superiore è la nostra vera essenza, il nostro vero io, che viene dal futuro, si gira indietro per aiutare le sue incarnazioni. Intervistatore, qualunque sé superiore di ogni entità è di sesta densità? Io sono Ra, questo è un onore e dovere del sé al sé, quando si avvicina alla settima densità. Intervistatore, voglio essere certo di aver capito bene. Abbiamo parlato di determinati individui, per esempio in una seduta precedente di George Patton, il suo sé superiore al momento della sua incarnazione qua giù come George Patton circa 40 anni fa era di sesta densità, è corretto? Io sono Ra, è corretto? Vogliamo sottolineare ora che ogni entità ha diversi esseri a cui chiedere sostegno, ognuno dei quali potrebbe essere considerato da un'entità il complesso di totalità mente corpo spirito, tuttavia non in questo caso. Il complesso di totalità mente corpo spirito è una raccolta vaga di ciò che può avvenire. Lo stesso sé superiore è una proiezione o manifestazione di mente corpo spirito durante la parte disincarnata di un ciclo di rinascita o durante l'incarnazione. può comunicare se i sentieri adeguati o i canali attraverso le radici della mente sono aperti. Intervistatore, quindi questi canali vengono aperti tramite la meditazione? Presumo che l'intensa polarizzazione sia di aiuto, è corretto? Io sono Ra, è corretto in parte. L'intensa polarizzazione non sviluppa necessariamente nel complesso mente corpo spirito la volontà o la necessità di contattare l'oversoul, superanima. Ogni cammino dell'esperienza di vita è unico, tuttavia data la polarizzazione la volontà si intensifica e viceversa. Questo è molto interessante e qui farei una piccola parentesi perché siamo noi che nel desiderare ciò, nel desiderare di comunicare con il nostro sé superiore abbiamo la capacità di aprire certi canali. Intervistatore, prendo a esempio colui che hai detto venne chiamato Himmler. Presumo che il suo sé superiore fosse di sesta densità e abbiamo già detto che Himmler scelse il cammino negativo. Il suo sé superiore risiede dunque in una sesta densità di tipo negativo? Puoi approfondire questo concetto? Io sono Ra, non ci sono esseri negativi che hanno raggiunto la manifestazione dell'oversoul o superanima che è l'onore e dovere del complesso di totalità mente corpo spirito di sesta densità avanzata come voi lo definireste nella vostra misurazione del tempo. Questi complessi mente corpo spirito negativamente orientati hanno una difficoltà che per nostra conoscenza non è mai stata superata perché dopo la promozione di quinta densità la saggezza è disponibile ma deve essere accompagnata da un uguale ammontare di amore. Quest'amore luce è molto molto difficile da raggiungere quando si segue il cammino negativo e durante la prima parte di sesta densità i complessi collettivi di orientamento negativi scelgono di rilasciare il potenziale e balzare nella sesta densità positiva. Quindi l'oversoul cioè superanima che rende disponibili le proprie comprensioni a tutti coloro che sono pronti a questo tipo di aiuto è orientato positivamente. Tuttavia il libero arbitrio dell'individuo è di massima importanza e la guida fornita dal sé superiore può essere considerata sia con polarizzazione positiva che negativa a seconda della scelta del complesso mente-corpo-spirito. Questa parte è molto interessante perché da una parte mi dice che non ci sono sé superiori di orientamento negativo che naturalmente radice che dopo la prima parte della sesta densità il complesso mente-corpo-spirito negativamente orientati hanno una grossa difficoltà come avete sentito e quindi per loro conoscenza non è mai stata superata. Perché? Perché dopo la promozione di quinta densità della saggezza quindi quando un complesso mente-corpo-spirito orientato negativamente è stato raccolto dalla quinta densità alla sesta densità quindi dalla quinta densità della saggezza è stato raccolto nella sesta densità non lo può superare perché dopo la promozione appunto di quinta densità è disponibile la sesta ma deve essere accompagnata quindi la saggezza è disponibile della sesta densità ma deve essere accompagnata da un uguale amontare di amore quindi deve essere bilanciata in sesta densità deve essere bilanciata l'amore con la saggezza quindi le entità negative non possono progredire oltre perché appunto loro non considerano l'amore ecco perché dice che a questo punto questo amore-luce è molto molto difficile da raggiungere quindi quando si segue il cammino negativo e durante la prima parte della sesta densità i complessi collettivi di orientamento negativo naturalmente nella loro saggezza scelgono di rilasciare il potenziale e di balzare nella sesta densità positiva quindi qui sull'oversoul sulla se superiore sulla superanima Anima dice appunto che rende disponibili le proprie comprensioni a tutti coloro che sono pronti a questo tipo di aiuto e orientamento positivamente tuttavia è qui che è molto interessante dice che il libero arbitrio dell'individuo è di massima importanza e la guida fornita dal se superiore può essere considerata sia con polarizzazione positiva che negativa a secondo della scelta del complesso di mente corpo-spirito Intervistatore quindi utilizzando Himmler come esempio il se superiore al tempo dell'incarnazione negli anni 40 era di sesta densità orientata positivamente io sono Ra è corretto Intervistatore Himmler era in qualche modo in contatto con il suo se superiore quando era incarnato negli anni 40 io sono Ra Il cammino negativo è di separazione La prima separazione è dal se al se Quelui che era noto come Himmler non scelse di utilizzare le proprie capacità di volontà e polarizzazione per cercare una guida da una qualunque fonte che non fosse la propria era da lui consciente scelta nell'esperienza di vita e alimentata da tendenze precedenti create in altre esperienze di vita Intervistatore Dunque, quando Himmler raggiunse la sesta densità negativa realizzò che il suo se superiore era positivamente orientato e per questa ragione saltò dall'orientamento negativo al positivo Io sono Ra non è corretto L'entità di sesta densità negativa è molto saggia Osserva l'entropia spirituale che si verifica causata dall'incapacità di esprimere l'unità di sesta densità Così, amando il creatore e capendo a un certo punto che il creatore non solo è un essere ma anche altri esseri questa entità sceglie consciente un'energia istantanea di riorientamento così da poter continuare la propria evoluzione e questa risposta è molto interessante perché da qui capiamo che l'entità orientata negativamente a un certo punto inizia, così amando il creatore, inizia a capire a un certo punto che il creatore non solo è un essere ma anche altri esseri Quindi, allora, sceglie un'energia istantanea di orientamento così da poter continuare la propria evoluzione Intervistatore, quindi l'entità di sesta densità che ha raggiunto quel punto nell'orientamento positivo può scegliere di diventare ciò che noi chiamiamo erante e ritornare indietro Mi domandavo se questa accade con un'entità di sesta densità di orientamento negativo Qualcuno ritorna indietro quale erante? Io sono Ra Una volta che l'entità polarizzata negativamente ha raggiunto un determinato punto nella densità della saggezza è piuttosto improbabile che scelga di rischiare di dimenticare poiché questa polarizzazione non è altruista ma egoista e grazie alla saggezza capisce il rischio di errare A volte una sesta densità negativa diventa onerante solo per continuare a polarizzarsi verso il negativo ma è molto raro Intervistatore Qual è il meccanismo per cui questa entità di sesta densità desidera polarizzarsi ancora più negativamente diventando un erante? Io sono Ra L'erante ha il potenziale di accelerare enormemente la densità da dove viene nel suo progresso di evoluzione Questo per le intensive esperienze di vita e le opportunità di terza densità Quindi l'erante orientato positivamente sceglie il rischio di dimenticare allo scopo di essere di servizio agli altri irradiando amore agli altri Se viene cancellato ricordo La qualità di catalizzatore in terza densità polarizzerà maggiormente l'erante di quanto ci si potrebbe aspettare nelle densità superiori e più armoniose In modo simile l'erante orientato negativamente osa rischiare di dimenticare allo scopo di accelerare il proprio progresso di evoluzione nella propria densità servendo se stesso in terza densità offrendo agli altri l'opportunità di ricevere informazioni che hanno a che fare con la polarizzazione negativa Intervistatore Ci sono degli esempi di eranti di sesta densità polarizzati negativamente nel nostro passato storico? Io sono Ra Questa informazione può essere pericolosa Dobbiamo rifiutarla Ti preghiamo di guardare le entità attorno a te come parte del creatore Non possiamo dire di più Intervistatore A volte è molto difficile per noi avere solo una piccola percentuale di comprensione di alcuni di questi concetti a causa della nostra limitata consapevolezza ma credo che una riflessione sulle informazioni di oggi potrà aiutarci a formulare delle ulteriori domande Io sono Ra Hai qualche breve domanda prima che lasciamo questo strumento? Intervistatore Ne ho una molto breve prima di terminare Puoi dirmi quale percentuale di eranti oggi sulla Terra è riuscito a penetrare il blocco di memoria ed è diventato consapevole di chi è? Infine possiamo fare qualcosa per lo strumento che sia maggiormente a proprio agio o per migliorare la comunicazione Io sono Ra Possiamo solo dare una valutazione approssimativa di coloro che sono intelligentemente penetrati nel loro status La percentuale è tra 8 e 9 e mezzo e tre quarti per cento Vi è una parte più numerosa che ha dei sintomi indicati come non sono di questa diciamo così insagna Ammontano a poco più del 50% di ciò che resta Circa un terzo dei restanti sono consapevoli di essere diversi quindi come puoi constatare le gradazioni di risveglio che portano alla consapevolezza di essere onerante sono diverse Possiamo aggiungere che questa informazione ha senso per il primo e per il secondo gruppo Questo strumento è a posto Il luogo di riposo ha in qualche modo effetti delle teri sulla parte dorsale del veicolo fisico dello strumento Lo abbiamo già riscontrato in precedenza Siete conscienziosi e ora vi lascio amici miei Io sono Ra Vi lascio nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore Continuate dunque a rallegrarvi nel potere e nella pace dell'uno creatore Adonai Oggi abbiamo imparato tantissimo sulla nostra superanima sul nostro sé superiore su quello che è la nostra vera essenza Il nostro sé che torna dal futuro Praticamente il nostro sé superiore sei tu che torni indietro dal futuro quando sei quasi vicino a fonderti con la con la nostra sorsa con la fonte suprema con il creatore Quindi torni indietro e a questo punto inizi a seguire tutte le incarnazioni E una volta che hai finito tutto ciò vai verso la settima densità praticamente con un piede nelle manifestazioni e uno nell'eternità Allora io mi fermo qui vi aspetto con la prossima sessione vi auguro una bellissima giornata grazie nella vostra compagnia Ciao a tutti Ciao a tutti